Ciao bambini, come state? Tutto bene? Ah, avete fatto bene inglese ieri? Perché adesso oggi facciamo scienze Oggi parliamo dei rettili Allora, i rettili... dove sono i nostri rettili? Eccoli qua Quindi prendete il vostro libro di scienze a pagina 56 Allora, parliamo dei rettili Dunque, i rettili sono tanti tipi di animali Sono sempre dei vertebrati E però sono molto diversi I rettili sono i serpenti, le lucertole, i gechi Sono i coccodrilli, sono dei rettili, gli scorpioni Quindi... no, scusate, gli scorpioni sono degli arachnidi, abbiate pazienza Ci sono tanti tipi di rettile Allora, infatti, hanno anche modi diversi di muoversi Infatti, alcuni strisciano, alcuni usano le gambe Ma le hanno piccole e corte, ok? Altri nuotano molto bene Per esempio, ci sono dei serpenti acquatici Che sono velocissimi in acqua Mentre ci sono i serpenti, quelli che strisciano per terra Che in realtà sono velocissimi, ok? E dunque, hanno due caratteristiche in comune Sono eterotermi, come potete vedere qua E respirano attraverso i polmoni, ok? Anche se, appunto, alcuni di loro vivono in acqua Vediamo i nostri tipi, i diversi tipi di rettili, ok? Quindi abbiamo detto eterotermi e hanno i polmoni Se sono eterotermi vuol dire che loro non regolano il loro calore, ok? Hanno bisogno, ma si adattano alle temperature esterne Allora, i serpenti sono i primi rettili di cui ci occupiamo, no? Vivono praticamente dappertutto E sono carnivori Possono avere, appunto, possono mordere Avere un mordo verenoso per paralizzare le prede Oppure possono solamente stringere, ok? Non hanno arti, non hanno le gambe E non hanno braccia Ok? Snakes haven't got legs and arms, ok? Ma si muovono come? Strisciano Effettuano la muta Che cos'è la muta? La muta vuol dire che loro cambiano pelle Ogni tot di tempo La pelle, quella superficiale che loro hanno La cambiano Come se si mettessero un vestito nuovo Lasciano la vecchia pelle come un sacchetto di plastica Vuoto E E hanno la loro pelle nuova Possono essere ovipari Cioè deporre uova Oppure ovovivipari Cosa significa ovovivipari? Significa che Covano le uova all'interno I piccoli nascono dentro Poi escono dalla mamma Però Si formano dentro le uova All'interno della pancia della mamma Poi cos'è che abbiamo? Abbiamo le lucertole Le lucertole le conosciamo tutti Vero? Come sono? Sono carnivore Perché si nutrono di piccoli insetti Hanno un corpo allungato E una coda lunga Ok? Loro invece hanno quattro zampe Come potete vedere Vedete? Una, due, tre e quattro E sono ovipare Depongono le uova Anche loro Durante la crescita Fanno la muta E La particolarità delle lucertole Per chi le ha cacciate in campagna Lo sa benissimo Quando vengono prese Riescono a staccarsi la coda da sola Da sole Ok? Quindi tu pensi di averle prese per la coda Invece la coda si stacca Si continua a muovere E loro scappano via Poi a loro la coda ricresce Ok? Poi chi abbiamo? Le tartarughe Dunque le tartarughe sono Onnivore Mangiano di tutto E hanno un corpo protetto da un guscio esterno Il guscio della tartaruga Che si chiama carapace Che è formato da delle piastre osse Attaccate una sopra l'altra E quando c'è il pericolo Cosa fa la tartaruga? Nasconde la testa e le zampe e la coda No? È la sua casetta praticamente Possono vivere sia sulla terra Che in mare Ci sono le tartarughe marine Sono ovipare Depongono le uova E le loro uova hanno dei gusci molto resistenti Sono molto longeve le tartarughe Perché possono vivere sino a 100 anni Anche di più Non so se avete mai visto le tartarughe delle Seychelles Sono enormi Vediamo se adesso riesco a farvele vedere Aspettate eh Allora vediamo Turtles Le Seychelles sono delle isole Incredibili Ok? Guardate Guardate qui Guardate adesso cosa vi faccio vedere Guardate Guardate che grossa che è bambini Questa è di terra eh È enorme Avete visto che grosse che sono? Ok? Partono da così piccine eh Guardate Avete visto che meraviglia Sono bellissime Sono bellissime Sono proprio Una cosa enorme E Depongono le uova Ok? Pensate che anche le tartarughe marine Ci sono delle spiagge apposta Per far deporre alle uova Perché hanno bisogno del loro spazio Perché hanno bisogno del loro spazio Loro arrivano sulla spiaggia Scavano Depongono le uova E poi se ne vanno Non so se avete mai visto Ma hai visto il film Disney Semmi La tartaruga È bellissimo Se vi capita di vederlo Guardatelo bambini Perché fa proprio vedere Tutta la vita delle tartarughe Da quando nascono Fino a quando poi diventano ovecchie È molto bello Semmi si chiama Allora Invece l'ultimo rettile Di cui ci occupiamo oggi Sono i coccodrilli I coccodrilli Sono divisi In coccodrilli Alligatori E caimani Sono tutti carnivori Sono rettili molto aggressivi Che hanno E hanno un corpo E che Accorazza Perché ha delle piastre osse Una sopra l'altra E ha una mascella molto forte Vuol dire questa La mascella Cioè la loro bocca Praticamente E hanno dei denti robustissimi Vivono vicino ai corsi d'acqua Della zona equatoriale Sono ovipari Anche loro Depongono le uova In cumuli di terra E nei vegetali Cioè nelle piante Quindi i rettili Sono una categoria Molto particolare Allora Voi dovete fare Il toccame Come sempre Osserva le immagini E segna con una X L'alternativa Corretta I serpenti Fanno la muta O la metamorfosi Le lucertole Sono animali Omeotermi O eterotermi Le tartarughe Sono animali Vivipari O ovipari I coccodrilli Hanno il corpo Coperto da placche ossee O da squame Dovete metterla Risposta giusta Secondo esercizio Studio e imparo Rileggi il testo Questo bambini E completa una tabella Come questa sul quaderno Per serpenti Lucertole Tartarughe E coccodrilli Cosa vuol dire? Che voi sul quaderno Dovete ricopiare Questa tabella Ok? E sopra mi scrivete Serpenti Mi fate questa tabella Dove vive Come ha il corpo Come si nutre Come si riproduce Poi sotto Mi scrivete Lucertole Rifate di nuovo la tabella E mi scrivete Dove vive Come ha il corpo Come si nutre Come si riproduce Stessa cosa per le tartarughe Stessa cosa per i coccodrilli Poi Questo qui è molto interessante Perché dice Leggi ed esegui L'intervento dell'uomo Ha modificato Molti ambienti naturali E sta mettendo a rischio La sopravvivenza Di alcuni animali In piccolo gruppo O a coppie Scegliete una specie In via di estinzione Poi cercate notizie E compilate la scheda Di identificazione Come nell'esempio Alla fine Creato un cartellone Con tutte le schede realizzate La scheda è questa Vedete Qua c'è un esempio Nome Lucertola delle olie Classe Rettile Dove vive Isole olie Di che cosa si nutre È carnivora Predilige gli insetti Perché è in pericolo A causa della distruzione Da parte dell'uomo Del suo habitat naturale Natural habitats Che cos'è che vi chiedo di fare Se qualcuno di voi Ha la possibilità Di vedersi in Meet Come ci vediamo con le maestre Con il vostro account di scuola Con un compagno E vuole fare questa ricerca insieme Lo può fare Faccio un esempio I gemelli Si sentono con l'Alessia Dico loro perché sono gemelli Sono cugini, no? Si incontrano in Meet A una certa ora E possono fare questa ricerca insieme Ovviamente Ognuno di loro Dovrà cercare Che cosa? L'animale in via di estinzione Deciderlo Non dovete fare una ricerca Bambini Dovete scrivermi Come questa qui Una scheda Ok? Una volta fatta la scheda Me la mandate Ok? Se qualcuno invece Non riesce a sentire nessuno Se lo fa da solo Non è un problema Ma sarebbe una cosa bella E simpatica Se voi Vi vedeste in Meet Come facciamo Quando ci vediamo noi? Vi date un appuntamento Su Meet E Non so Vi dite Ci vediamo Venerdì alle 5 E allora vi vedete Parlate Cercate di capire Che animale scegliere E potete farla insieme Questa cosa Potrebbe essere una cosa Molto bella Per poter fare un lavoro Di nuovo insieme Se invece non ci riuscite Non è un problema E questa è solo un'idea Che io vi ho dato L'importante È che voi mi facciate questo Allora io Vi chiedo Di mandarmi Questo lavoro Che è molto bello Quando? Dunque oggi è giovedì Voglio che me lo mandiate Il 21 Ripeto Il 21 di maggio Il 21 di maggio È la scadenza Giovedì 21 maggio È la scadenza Per mandarmi Che cosa? Tutto questo Il tocca a me La foto quindi Di che cosa? Del quaderno Con tutte le schede Con tutte le tabelle Di serpenti Lucertole Tartarughe Cocodrilli E La scheda Questa qui La fate sul quaderno Ok? La fate sul quaderno blu E me la inviate Ovviamente se lavorate a coppie Basta che solo uno Mi mandi la fotografia Con scritto Ciao maestra Samantha Io Per esempio Sono Lorenzo Ho lavorato con Achille Quindi Vale per tutti e due Se invece me la mandate da soli Mi scrivete solo voi Va bene? Vediamo a quanti minuti siamo? 12 minuti Quindi ci siamo Bambini Io Credo di avervi spiegato bene tutto Mi raccomando Rileggete Molte volte Questo E ripetetelo Ripetetelo È fondamentale Quindi Entro giovedì Mi dovete mandare La foto di Tocca a me Questa La foto del quaderno Dove c'è la tabella E la scheda Sempre sul quaderno D'accordo? Se avete dei dubbi Mi scrivete E io vi rispondo Un bacio enormissimissimissimo A tutti Ciao 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 ciao